Sappiamo che il bello dell'autosvezzamento è che i bambini sono liberi di mangiare qualunque cosa sia presente alla tavola dei genitori. Questo però sembra essere spesso accompagnato da un sì, possono mangiare tutto eccetto... Ciao, sono Andrea di autosvezzamento.it e in questo video voglio parlare dei cibi senza, ovvero del fatto che sembra che se quello che mangiamo è privo dell'alimento X o Y e questi variano da persona a persona, la nostra salute ne gioverà a priori e questo vale sia per gli adulti che per i bambini. Prima di continuare però, mi raccomando, se non lo avete già fatto, iscrivetevi al canale e premete sulla campanella dicendo che volete ricevere tutte le notifiche, che comunque sono poche, altrimenti non potete sapere se un nuovo video viene pubblicato. C'è una cultura molto pervasiva che ci dice che una cosa per essere buona, per essere salutare, deve essere senza qualcosa e questo diventa un punto di forza nella strategia di marketing. I cibi senza sono molto popolari, basta vedere gli scaffali di supermercati, ne sono pieni, cibi senza glutine, cibi senza grassi, cibi senza zucchero, scegliete voi il vostro cibo senza preferito. So bene che c'è chi non può mangiare alcune cose per motivi medici, ma non mi riferisco a questa categoria di persone, ma a chi lo fa per scelta, perché percepisce che il cibo senza sia cibo migliore. Lo stesso vale per i bambini, sappiamo che alla fine dei conti di alimenti che dovrebbero evitare i bambini in età di svezzamento ce n'è uno solo, che è il miele fino ai 12 mesi, altri non ne conosco. Cose come, ad esempio, carne o pesce crudi o uova crude vanno evitate, ma queste vanno evitate a tutte le età. Tu magari scegli di farti un bel carpaccio perché ti piace, però sai che corrono il rischio. Gli alimenti che periodicamente vengono tirati fuori quando c'è una discussione su quello che un bambino può o non può mangiare sono tanti. Chiaramente ognuno fa le sue scelte e mi sta benissimo. Se tu preferisci che tuo figlio non mangi, non lo so, le cozze, ottimo, diecellote, continua così, ma voglio sottolineare che non ci sono premi per chi le cozze non le fa mangiare né ci sono punizioni per chi non si fa problemi. Per dire, c'è un video dove parlo del sale e di quanto debba essere consumato da piccoli e grandi e vi consiglio di guardarlo se vi interessa approfondire l'argomento. Il punto che cercavo di far arrivare è che il sale non è vietato di suo, ma se ne sconsiglia l'uso perché, andando al sodo, è fin troppo buono e noi ne consumiamo troppo. Evitare che un bambino mangi il sale è molto probabilmente una perdita di tempo perché, se noi per primi ne abusiamo nonostante noi siamo figli delle pappe insipide per eccellenza, i nostri figli finiranno per abusarne esattamente come facciamo noi. Se noi consumiamo abitualmente una quantità ragionevole di sale, i bambini crescendo e imitando il nostro comportamento faranno lo stesso. Difficilmente comportamenti super virtuosi all'inizio della vita dei nostri bimbi avranno gli effetti a lungo termine che ci auguriamo, se questi comportamenti virtuosi non fanno parte della nostra vita. Se uno si ferma a riflettere e capisce immediatamente come i cibi senza che pensiamo siano così importanti per i nostri figli, alla fine dei conti non servono ad altro se non a far sentire noi meglio. Vi voglio fare un esempio pratico. Ecco un'immagine che mi hanno mandato tempo fa, era quasi Pasqua. Un'immagine davvero accattivante. Il testo che lo accompagnava diceva, per i bambini ancora piccoli per l'uovo di Pasqua, coniglietti di pane al latte. Confesso subito che questi coniglietti al latte non li ho mai fatti, ma sono sicuro che siano buonissimi, non è questo il punto. Devo anche confessare però che io sono il peggior troll della pagina a Facebook di autosvezzamento.it. Nonostante sapessi dove si voleva andare a finire o come sarebbe andata la conversazione, ho chiesto a chi è postato questa immagine perché l'ipotetico bambino a cui era indirizzata questa ricetta era troppo piccolo per mangiare l'uovo di Pasqua, ma questi coniglietti invece andavano bene. Dopodiché c'è stata un piccolo botta in risposta ed è venuto fuori il disagio all'idea di dare della cioccolata a un bambino così piccolo, perché non gli piaceva l'idea che mangiasse lo zucchero. Perfetto, non voglio che mio figlio mangi lo zucchero, allora lo tolgo dalla ricetta e quello che rimane va bene, giusto? Guardiamo quali sono gli ingredienti dei coniglietti secondo la ricetta che ho ricevuto. Abbiamo 350 g di farina, mezzo cucchiaio di aceto, mezzo cucchiaio di miele, mezzo cucchiaio di sale, mi pare tanto ma vabbè, un uovo, mezzo cucchiaio di lievito sciolto in 125 ml di latte caldo, uvetta per gli occhi, uovo per spennellare. Ora, vi invito a prendere questa ricetta e postarla su 5 gruppi Facebook diversi o dove vi pare non è che parlo di gruppi di nicchia, ma totalmente mainstream, me ne vengono in mente molti senza neanche pensarci e sono sicuro che anche voi avete i vostri preferiti. Così facendo vedrete che vi daranno almeno 5 motivi diversi per cui questi coniglietti di pane al latte non solo non sono adatti per tuo figlio, ma sono il male incarnato. Esaminiamo l'elenco, cominciando con la farina, ovvero il veleno bianco, ma stiamo scherzando, diamo la farina raffinata ai nostri bambini, ma che non lo sai che fa malissimo? Aceto, ma magari c'è rimasto dell'alcol, e poi l'aceto è troppo acido, è meglio non darlo ai bambini, non credo gli faccia bene. Il miele, lo sanno tutti che non si può mangiare prima dei 12 mesi. Il sale, ma stiamo scherzando, diamo il sale ai bambini piccoli, ma quando mai? L'uovo, le allergie. Il lievito, non vi prendo in giro se vi dico che ogni tanto mi scrivono dicendo di non poterlo usare, perché intolleranti, e mi chiedono se anche un bambino possa esserlo. Il latte, ma stiamo scherzando, prima mi hai detto la farina, poi il sale e adesso mi dai il veleno bianco numero 3, il latte, ma per carità. Poi c'è l'uvetta e se gli va di traverso meglio evitare. Quindi, in sostanza, se dovessimo stare a dar retto a tutti i coniglietti di pane al latte diventerebbero questo. E poi anche qui l'acqua che usiamo è quella senza sodio, per bambini, a basso residuo fisso, del rubinetto, quale prendiamo? Veramente non si vive più. Purtroppo il fatto che viviamo in una cultura senza è innegabile. L'idea che per stare in salute basta rimuovere un qualche ingrediente, mentre al tempo stesso mettiamo mano al portafoglio per comprarne di più cari, è molto diffusa. Questo atteggiamento vale sia per i grandi che per i più piccini. Magari ci concentriamo su cose diverse, ma l'approccio quello è. Dopotutto anche il baby food vive facendo leva su queste paure. Basta vedere una pubblicità qualunque e vedrete che qualunque vasetto è senza cento cose diverse, molte delle quali poi sono ovvie. Ma il senza vende. Ci dobbiamo però rendere conto di come questo sia un atteggiamento irrazionale perché de-responsabilizza. Noi siamo responsabili. Noi siamo quelli che dobbiamo dare il buon esempio. I cibi senza non sono mai la risposta. Quello che invece è importante è la varietà e ricordarci di disporre i nostri figli al maggior numero possibile di cose, sapori, consistenze e colori diversi. In una discussione mi chiedevano, dobbiamo andare in vacanza? Quando siamo al ristorante come facciamo ad assicurarci che il nostro figlio assaggi cose dai gusti semplici? Cosa vuol dire gusto semplice? Che deve mangiare? Non lo so. Solo pomodori sconditi? Pasta in bianco? E verdura lessa senza niente? Questi sono i sapori semplici? A parte che non so a chi piacerebbe una dieta di questo genere, ma quello che non capisco è cosa dovrebbe accadere a un bambino se assaggiasse dei sapori non semplici. Forse si teme che d'ora in poi preferirà solo sapori complessi. Onestamente non lo so e mi chiedo se chi ha posto questo quesito lo sapesse. Se tu vuoi che l'alimentazione tua o di tuo figlio sia priva di un determinato ingrediente va benissimo. Non sto a sindacare le tue scelte personali, ma allo stesso tempo non puoi far diventare quella che è una tua scelta? Una legge universale, spesso citando delle linee guida inesistenti. Le linee guida serie non si pronunciano sui singoli alimenti, ma parlano per principi generali perché quello che conta è la varietà. Per quanto mi riguarda il consiglio è che invece di avere dei cibi senza, prendiamo cibi con. Ricordiamoci appunto di esporre i nostri figli e tante cose diverse. Solo così possiamo effettivamente aiutarli e, a mio avviso, questo è l'unico atteggiamento che a lungo termine porterà qualche frutto. Forse, se siamo fortunati. E voi, quali sono i vostri cibi senza? Cosa preferite eliminare dalla vostra alimentazione e perché? E con quella dei vostri figli come vi comportate? Fatemelo sapere nei commenti che mi interessa molto approfondire l'argomento. Ciao e alla prossima!